Se sentiamo subito l'ambito del musical, uno dei musical veramente più conosciuti, ecco esatto, già ti sei messo in ruolo. No, è la schiena, lasciati. No, è vero, è l'età, è l'età. E allora fate forte l'applauso per il numero uno, Fabrizio, che dal Notre Dame de Paris interpreta Quasimodo. Quando il tempo sarà passato, la terra scoprirà, posti due corpi incatenati, e il mondo lo saprà, che Quasimodo muo è sperata, che raggiunse la strincia a sé, oltre i baci da resulirà, alla morte che dà la vita, alla morte che mai non vorrà. Alla mia esperanza, tanta mia esperanza, Al di là dell'al di là, l'amore non saprà. Alla mia esperanza, tanta mia esperanza, con te, io vivrò con te, perché con te non è morire. E fatelo l'applauso per Fabrizio con Quasimodo.